Allora, allora, salve raga volevo farlo domani come ho detto ma ho finito un'ora e mezza, due ore fatta a fare i video taglio e ne parlo ora perché gli ho detto, dico perché, aspettate poi magari lo pubblico domani il video ecco, lo vedete in questi istanti voi lo vedete, però calcolate che io non so buono faccio un video dopo due ore e pubblico un'altra, dopo quattro ore come fanno tanti deve essere un evento, deve capitare un evento ma questo non è un evento è una cosa, è un dato di fatto quello che racconto stasera che avrei dovuto raccontare, magari come ho detto, fra 24 ore o 48 allora, il video è un po' lungo se vi fate sentirlo bene, se no vale un po' come cazzo però è aperto a tutti, lo vedono tutti lo vedete tutti quanti perché, come tanti sanno, ancora c'ho 16.000 iscritti qua e poi dopo questo video qua lo metto del là per i commenti per quelli che vogliono commentare sulla Remax perché poi ci stanno quelli che tanti non vedono tanti video, moltissimi stanno in Remax che tanti non vedono e altri che magari ogni tanto qualcuno lo faccio perché ho ancora degli iscritti e mi auto-sponsorizzo come tante volte tanti coglioni coglioni scrivono ah ma tu qua, ma tu là ma ognuno del canale suo ci fa quello che gli pare non è che io uno dice una cosa e poi dice ah tu hai detto questo allora non mantieni se non stronzate vedete come vi faccio un esempio allora ieri ho visto il video d'Andrea ho visto perché io poi la sera sul Tardi dopo aver visto qualcosa sulla televisione o quelle notizie o quello che sia poi vado su YouTube e mi guardo un po' giro un po' un attimo mi faccio una passeggiata come si dice sto sul letto col televisore e giro i canali e vedo un po' i miei colleghi insomma con molti colleghi ci ho discusso con molti colleghi mi so come si dice se siamo come si dice se siamo capiti e via dicendo YouTube YouTube allora io come ho detto YouTube ho cominciato a farlo a fine del 2007 ho cominciato a fare YouTube YouTube è un'arma micidiale è un'arma micidiale e lo devi sapere sfruttare devi sapere perché tanti io vedo tanti che fanno video e non riescono a fare visite o magari iscritti o una cosa del genere io magari io facevo molte visite ma iscritti non ne facevo tanti nel senso a differenza del primo canale ma anche lì era un rapporto strano perché dei visite ne facevo tanti e dei iscritti non ce ne avevo tanti in proporzione io parlo della proporzione invece tanti c'erano tanti iscritti o fanno un cazzo di visite è un po' strano sta faccenda di YouTube è molto strana allora sapete che come si dice se ne parla bene o se ne parla male l'importante è che se ne parla più delle volte quando se ne parla male parlare male di quel soggetto fa molta più pubblicità di quando se ne parla bene molta di più allora io quando ho cominciato a fare YouTube ho cominciato Presidevetto o Peppe Grillo Presidevetto perché all'epoca facevi i V-Day vi ricordate i primi V-Day no? allora io attaccavo Grillo e all'epoca Grillo era era uno dei c'aveva dei siti più visti al mondo era uno dei che c'aveva più visti al mondo è normale che se tu ti butti su uno che c'ha è normale che faccia i ragazzi acchiappi consensi anche negativi però te fa conoscere io ho cominciato così ho cominciato ad attaccare Grillo anche se a me Grillo mi piace nel senso come personaggio come persona come comico come tutto quanto è sempre piaciuto però sul fatto politico l'attaccavo e stava nascendo ancora 5 Stelle non esisteva non esisteva però lui parlava di queste cose politiche come se poteva cambiare il mondo tutte queste storie qua io l'attaccavo anche su cose che magari erano giuste io gli andavo contro ma era un gioco è un gioco è cominciato così che tutti quanti mi riempivo il video ben tutti ma tanti ma una cosa veramente impressionante ogni 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 secondo c'è stato un commento pim pim mi ricordo all'epoca il computer mi dava pure il segnale il sonetto una cosa impressionante una cosa impressionante e attaccavo questi soggetti in modo incredibile e facevo tantissime visualizzazioni ma tante milioni di visite facevo no come adesso che quando fai 50.000 sembra che sai che cazzo hai fatto ma non è venuto all'epoca perché il personaggio era uno dei numeri uno al mondo nel blog lui si era affilato su youtube da un paio d'anni un anno prima un anno e mezzo prima lì e io ho preso quella scia per diventare famoso e poi il modo che sciavio come mi presentavo e tutto quanto ero come se io ero diventato un personaggio infatti da lì poi erai tre televisioni private insomma ai radio mi cercavano però purtroppo io da qua non mi voglio muovere io sto bene qua vivo bene qua sto bene qua e io a partire e ritornare in Italia per lavorare non me ne fregavo un cazzo perché sto tanto bene qua e da lì è cominciata tutta sta sambaradam poi dopo dopo un paio d'anni dei buoni mi hanno chiuso per canale quel canale me l'hanno chiuso perché ero troppo ero troppo ero troppo ero troppo e poi ne feci altri però non ebbero più quel successo di quel canale là perché dopo ripartire è difficile è dura ripartire io ho visto tanti che hanno chiuso dei canali che avevano molti iscritti e tante visite gli chiudevano i canali all'epoca ti chiudevano il canale se li mettevano un ballo minchia non riuscivano a ripartire non riuscivano a ripartire perché ormai quegli iscritti o quelli che era perché poi nascono tanti altri personaggi cominciano a uscire tanti altri personaggi che poi uno dopo piano piano passa altri personaggi e magari cominciano passi da moda passi da moda diventi un po' così e io mi sono rinfilato dentro però quello che bene o male io le mie visite l'ho fatto sempre a proporzione degli iscritti che ho io faccio in proporzione faccio molto più visite di chi ha molti iscritti e il personaggio riesce fuori perché deve romper il cazzo allora il fatto di donato di donato inglese che poi con lui abbiamo avuto dei batti becchi lui dice ho visto l'altro giorno un video suo stavo a sentire tu parlavate di youtube a leggere su un feste no io ho fatto una scelta non è che io me ne sono andato perché a me non me ne frega un cazzo perché a me questo tipo di cosa non mi piace più questo tipo qui di insulto gli insulti che te fanno verbali o te fanno i video contro tutte queste cose qua ma era rotta il cazzo non lo sopportavo più era una cosa diventata insopportabile e ho preferito cominciando con youtube che poi dopo un mese mi hanno bloccato tutto come tanti sanno e con questa cosa ho fatto il canale a parte ho fatto sul sito sul sito ho messo dentro l'area max dove tu devi scrivere e vedi insomma vedi i video che gli altri non vedono vedi solo ricevi ancora insulti e poi di tanta gente stupida è normale che non sopporti più nessuno non sopporti allora prima che degenere perché quando poi so i commenti quelli che perché ho cominciato prima a levare i commenti quello che mi vanno a berser perché poi so i commenti perché il commento dell'amico dell'amico è normale che dopo con quel commento nasce l'altro commento quello del suo se fanno proprio i gruppi e te pieno te mira te pieno te mira anche se magari dici cose buone o giuste non gliela c'è un cazzo ormai è proprio te pieno te mira e finisce lì è una cosa catalogata come succede per insomma quelli che vedete ci stanno 5 6 7 tra di loro che ogni tanto se manano affanculo insomma se ne dicono un po' di peste e corna e io ho voluto eliminare proprio questo 6 mesi 6 mesi buoni che ho fatto con l'area max è nata area max il 27 giugno è nata area max è nata il 27 giugno mo sono 27 dicembre sono 6 mesi e qualche poco più di 6 mesi che ho fatto questo canale tanti si sono iscritti certo normale ne avevo 20.000 20.000 iscritti ero arrivato a 20.000 e poi 20.000 e 3 20.400 iscritti non mi ricordo è normale poi da lì non te puoi più iscrivere perché se ti iscrivi dovevi pagare automaticamente ti disiscrivi perciò da lì è normale che vanno piano piano molti si sono levati e molti insomma sono passati nell'area max pagando sono passati e ascoltano i miei video lì c'è sta la chat tante volte commentano a volte trasmetto le partite non sempre sempre in privato come ho detto ho messo lo sconto delle vacanze e l'offerta della vacanza ho messo un po' le cose che questi 24 euro che sono una minchiata secondo me sono un po' una cazzata a differenza delle donazioni perché io sono stato sempre contro le donazioni perché la donazione mi sembra nell'emosina mi sembra a me mi dà quell'effetto là la donazione è nell'emosina come se tu stai a fare l'emosina perché se gli dai in euro sei pitocchioso se gli dai 50 ti gira nei coglioni non sai mai quanto dà io magari può passare capito com'è invece metti un prezzo 24 euro sono 2 euro al mese paghi 24 euro con la botta per tutto l'anno vedi il sottoscritto vedi vedi le live vedi le partite puoi commentare tranquillamente non vedi pubblicità non vedi non vedi insomma puoi avere lo sconto insomma non tante cose insomma 24 euro con una vacanza già te sei strani prese se te fai una vacanza c'è lo sconto al 15% te le sei strani prese perciò tante volte la gente questo non lo capisce 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 a modo loro capiscono perché ah tanti mi fanno e beh io te devo pagare ma tu non sei obbligato tu non sei io vedi che c'è questa gente così ah io non te do una lira io io sta gente me la so proprio levata dai coglioni apposta me la so voluta levata dai coglioni apposta perché è gente che viene qui solo per cagare il cazzo perché è gente che dice che ti stima ma poi alla fine non ti stima io mi sto portando su Aria Max gente che me stima gente che piace come la penso quello che dico e quello che porto insomma quello che offro 24 euro l'anno sarò una minchia 2 euro al mese non sarò un cazzo se viene a birra con 2 euro perciò 24 euro è una stanzata che poi non lo vuoi pagare è un altro discorso non ti sto obbligando come tante volte tanti mi hanno attaccato pure su sto fatto qua ah mo te fai pagamo qua mo là e insulti ancora alla fine ho dovuto proprio bloccare tutte le le chat tutte le chat su youtube bloccarle tutte perché poi dopo sai che c'è quando cominci a ricevere degli insulti o magari certi tipi di insulti ti fanno incazzare perché è normale poi rispondi un giorno una una mi ha fatto mi ha scritto mi ricordo so tanti però uno in particolare mi fece così incazzare perché dico ma guarda la madonna sti pezzi de merda perché poi te incassi te nervosici gliene dissi deve essere corna poi questa qui era la ragazzina che ci aveva 12 anni però non era stata lei disse che era stato il fratello il fratellino ma che mi insultava ma io dico io che cazzo lo so che cazzo c'è stato qua a dire dico ma fatemi capire una cosa ma chi te dà la cosa deve venire ma insultare ma chi te la dà il permesso da insultare perché ormai è diventato uno sport insultare e quello che succede oggi oggi è tutto l'insulto è tutto un insulto tutto l'insulto tu apri le chat allora io non potevo stare poi quando uno riceve un sacco di commenti tanti ne ricevi io ne ricevo tantissimi dei commenti alla fine se andiamo a vedere 3,4,500 commenti su un video faccio un esempio 100 commenti erano insulti ma tutti insulti gratuiti e sta roba qua dà fastidio alla fine dico ma porca puttana ma che cazzo ma tu te metti sulla tassera aspetti il mio video perché poi magari gente che si iscrive perché gli arriva subito il messaggio stanno lì proprio che aspettano il video per essere i primi ad insultarti o magari per farvi capire faccio un video ma manco dopo un video che dura 10 minuti dopo 2 minuti 3 minuti che ho pubblicato il video già mi trovo che sono 20 20-30 pollici in giù ma dico ma ha capito manco il video hanno visto manco hanno visto un cazzo e già ti insultano ecco perché mi sono levato io da sta rottore dei cazzi io ho fatto la scelta giusta non me ne mento perché io ogni tanto faccio video per gli iscritti li pubblico ogni tanto lo faccio per cercare da portarmeli di qua perché se tu vuoi puoi commentare in area max allora lì c'è stata la chat commenti educatamente non c'è stato in 6 mesi ragazzi in 6 mesi che è aperto insomma che c'è tutto non c'è stato mai un insulto io vi faccio vedere se è tutta la chat dall'inizio non c'è stato mai uno mezzo insulto a differenza che io quando apro un video magari mi vedo un video di qualche collega puttana troia va a vedere un sacco di insulti ma come succedeva a me come succedeva questa è una cosa vergognosa è brutto alla fine così poi dopo sciamano piano piano cominciano a sciamare sanno che non porno più scrive sanno che non porno fa più un cazzo e vanno da altri a rompi i coglioni vanno da altri perché è così perché non sanno loro la loro vita è insultarti venite contro a prescindere e poi quando ti vengono contro c'è sta chi difende quello chi difende quell'atto che siccome era successo con me con Donato vi ricordate per 3-4 mesi siamo mandati affanculo l'uno con l'altro vi ricordate e lì diciamo che è stata un po' come si dice è stata un po' manco tanto voluta è una cosa che veniva un po' da sé non voluta uno non è che te viene lì per insultare però viene da sé perché lui mi diceva una cosa io gli ribattevo poi lui mi ribatteva insomma capito come ma non solo con lui ma pure con altri youtuber a me mi hanno cominciato a insultare proprio inizio del 2019 hanno cominciato a insultare dall'epoca che a me mi insultano dall'epoca so 10 anni so 10 anni che mi insultano però alla fine ho detto dico ma basta ragazzi ma basta perché non è più non si fanno avanti così con questi imbecilli con questa gente del merda perché questo qui uno si mette subito su la tassiera perché c'è gente che c'è un cazzo tutto il giorno non è gente che c'è una vita ha una vita no sta lì per l'insultare poi tu te incazzi fai un video poi dopo magari c'è quello o magari se prendi le mira faccio un esempio io parlavo faccio le partite a volte c'è stata lì uno è ironico lo sfottò no minchia ma arrivavano certi insulti pesantissimi chi te minascia le morte chi come te incontra le tagliate la testa chi te spezza le gambe chi che ma di tutti i colori ma minacce io dicevo di tutto è normale che un conto è deal un conto è fallo è come vedete io ho visto ieri il video è normale che Donato ha detto io conosco diritto privato l'ho conosciuto su a Roma è venuto a casa del dottore siamo stati insieme abbiamo cenato siamo stati bene è un bravissimo ragazzo io non è perché è un bravo ragazzo questo non c'è più è proprio un ragazzo educato perfetto per bene poi è normale che ci sta Donato c'è un po' quell'arroganza un po' lo fa apposta e un po' c'è è normale che lui quando dice io ti venga a prendere di qua di là poi Andrea gli ha detto ecco del numero ecco di questo adesso vediamo se c'è le palle ma è normale che sono cose che ma te pare che io parto da Foggia mi dite venga a Roma alzonate a casa sono cose che si dicono e Andrea secondo me ha sbagliato secondo me ha sbagliato perché lì a prescindere che ci sta anche se se te sta sul cazzo o anche se a me quello me sta sul cazzo chi me sta sul cazzo capito non va bene secondo me oltre vai lì vai oltre anche se lo sputacchio l'ha fatto pure Donato mi ricordo su chi cazzo l'aveva fatto su questi che gli rompeva nel cazzo che gli sputava a dosmo non mi ricordo su chi l'ha fatto in generale però lui l'aveva fatto mi pare una cosa ho visto una volta l'ha sputato davanti alla telecamera ma mi ricordo chi cazzo ce l'aveva vabbè comunque lui l'aveva fatto mi pare in generale questi pezzi del merda diceva non mi ricordo perché a volte arrivi all'esasperazione perché tu non puoi più sopportare come dicono oh ma vaffanculo appena ti dicono appena una mezza parola subito te incazzi perché non li sopporti più è una cosa diventa e questo l'ho passato non li sopporti più allora tu pensi come posso farmi eliminare tutta sta merda perché poi c'è quello che difende quello che ti fa il video contro quello che ti fa il video contro tu magari se senti una mezza parola di quello che ha detto tu subito te arteri perché già si è incazzato i commenti allora magari quello del video magari ha detto una mezza parola che magari ti sembra strana tu fai un video e magari lo nomini ecco lì che nasce la guerra perché la guerra nasce così le guerre nascono così a me io condonato all'epoca lui diceva anche se lui dice te no però è così quello juventino delle canarie poi non mi ricordo se riuscì con una frase del genere dico ma che cazzo è questo questo è immaculato e da lì io gli feci invito e poi lui dice io ho cominciato quello ma no perché lui diceva quello juventino delle canarie cazzarola ma io manco te conoscevo capito e poi dopo sono andato a vedere che aveva insultato e aveva insultato il ras pure c'è fu pure sta cosa allora è proprio lui che va a rompire la gente vedi come rompire la gente perché lui cercava in quel modo da fare la notorietà e l'ha fatta l'ha fatta la notorietà ci ha giocato su sta cosa però mo questo gioco più delle volte gli si ritorce contro perché gli si mette contro mezzo a youtube gli fa fa popolarità in quel lato là però dico minchia quando trovi tutta sta gente che fa incazza a Mario Inter che fa incazza a quell'altro dell'Inter che fa incazza a Andrea che fa incazza a quello che fa insomma ne fa incazza a tanti io io ci starei attento perché uno magari può fare qualche mattata davvero capito cosa succede e questo può succedere e questo è una cosa che può portare a degenerare io so so come si dice a me piace fare lo sfottò magari la presa in giro come si dice ma no offendere è normale che io vi faccio un esempio facevo a volte quando faccio i video dei partiti parlo dell'altra squadra c'è l'ironia dello sfottò beh ragazzi a volte anche quando dicevo le cose che anche quando lo sfottevo minchia ma i massacravano dei insulti magari parlavo a volte prima del Napoli e magari avevo detto magari dicevo pure bene del Napoli ah no i messi in merda se no io venirei in merda ma io non ho detto nulla di che e subito ti attaccavano parli della squadra parli della Roma è uguale come parli parli anche se ne parli bene o magari non parli ironico senza offendere nessuno boom allora dici no allora dico porca puttana allora siete proprio pezzi di merda siete proprio pezzi di merda dentro poi lì però piano comincia a nasce un po' quell'odio verso tutti quanti e quando qualcuno ti fa un mini video magari parli senti una mezza poi magari subito gli ribatti perché diventa insopportabile e alla fine per non sopportare tutto questo ho detto ora faccio il canale a pagamento così almeno se tu vuoi commentare vuoi fare devi da pagare se vuoi vedere devi da pagare e se io ti faccio vedere un video qui in chiaro come adesso questa sera non ti faccio mettere i commenti e i like perché non devi commentare perché come io apro un video come apro una chat insomma apro che c'è stata la chat arriva lì i insulti allora evito così tu se vuoi venire a commentare ti devi scrivere ti devi scrivere passi nell'area max ti iscrivi paghi insulti e io ti cascio via hai buttato 24 euro funziona così ma da quando ho aperto il canale perché lì che si vedono veramente quelli che ti stimano e te seguono perché tante volte tutti questi iscritti che uno c'ha il conto è dillo massa c'ho 60.000 100.000 200.000 ma tu prova a fare un canale a pagamento e voglio vedere quanti cazzi ne porti dentro dei iscritti è lì che si vede veramente quelli sono tanti si iscrivono perché no perché diventi uno così ma io vedo tante volte che c'ha 200.000 iscritti e quando fa un video ne fa 30.000 visi non va capito come la proporzione se tu c'hai 200.000 iscritti ogni video dovresti fare 200.000 visi a me un iscritto ti deve fare un video e poi ci sono quelli che non sono iscritti che ti guardano uguale perciò non torna il rapporto non torna non lega io c'avevo 20.000 iscritti ma quando facevo poche visite facevo sempre 8-10.000 quando è poco già faccio il 50% per dirvi dei 20.000 sono de media quando facevo un video di quelli che facevo insomma 25-30.000 40.000 50.000 100.000 li superavo pure e la proporzione è molto più degli iscritti perciò non vuol dire un cazzo capito perciò per me ho detto se la gente veramente mi stima paga così me levo tutta sta rogna tutta sta merda perché YouTube è proprio una merda uno lo fa all'inizio perché è normale come ho fatto ho cercato popolarità c'era c'era uscito però sta popolarità poi porta tutti sti cazzo dei casini un po' perché lo fai è normale lui da tante volte io lo vedo lui da tante volte spara a zero su tutti e poi non vogliono che io ero un po' nei coglioni questa cosa non va io pure a volte sparavo a zero ogni tanto mi succede però io accettavo quello che mi dicevo perché avevo sparato a zero poi di prima spari a zero e poi quando te criticano te criticano forte come fai tu che dici tante volte sei una banda dei coglioni a banda di merda non capito una mazza poi pretendi che la gente sta lì e ti dice bravo grazie sono un coglione sono una testa di cazzo ma cazzo stai non funziona così e io quando a volte pure io delle volte dicevo dei coglioni non capito di cazzo e me lo dicevo a me non è che mi mettevo lì e gli scrivevo sei un pezzo di merda me ne prego un cazzo perché è una cosa che avevo accettato l'ho detto me la sono ripresa è come a tennis tirano la palla e poi la ripresano è la stessa non è che poi tira la palla e poi non fa più la pallata non fa più la pallata funziona un po' così una cosa del genere perciò questo è il quanto secondo me queste guerre su youtube sono un po' sono un po' una cosa da bimbi micchia da bambini da bambini e perciò io non ho voluto più far parte di questo circo del cazzo di tutta questa gente che ti insulta ti fa video contro ho voluto proprio le vamme tutti dalle palle perché tu quando fai così è normale che piano piano è partito ho cominciato ancora insultano poi dopo un mese meno dopo tre mesi meno dopo sei mesi già non c'è più nessuno perché almeno sul canale non puoi scrivere un po' fan cazzo tutto parte da là perché scrivono però chi magari ci guadagna soldini non puoi le va i commenti perché quando levi i commenti è normale quello commenta poi gli ricommenta so visite che rientri dentro e gli fai visite capito come pure i like quando metti i like pure quella gente è normale perché lì con like e condivisione capito come e io ho levato sia i pollici sia i commenti è normale che sul canale questo youtube ogni tanto faccio un po' di visite arrivo pure a 20.000 30.000 visite senza commenti e senza like pensa ancora c'è tanta gente che mi vede capito perciò a me alla fine a me le visite è bello che sei seguito però è relativo perché alla fine tu devi piacere alle persone che veramente ti estimano perché il resto non conta un cazzo e tutta gente che te vuole male invidiosa mi hanno detto che io ero un truffatore che io ho fatto questo ho fatto quello vieni qua vieni a constatare come tanti sono venuti e hanno constatato quello che faccio la gente che è venuta in vacanza tanti 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 migliaia da quando ho youtube da quando sono entrato e faccio sto lavoro che anche youtube mi ha dato una mano e facebook youtube e facebook mi hanno dato una bella mano a fare quel tipo il tipo di lavoro che faccio adesso mi hanno dato una grossa mano perché è normale la popolarità ti porta a far venire gente in vacanza e guadagni perché tu fai le vacanze vendi attività vendi case vendi questo fai un po' di tutto ti porta popolarità e ti porta soldi e io l'ho usato come lavoro perciò quello era il mio scopo quello era il mio scopo è il mio scopo adesso invece ho detto visto che voglio vedere veramente quelli che so veramente che ti stimano punto e adesso non me ne frega un cazzo anche se c'ho 500 c'ho 1000 iscritti c'ho 2000 iscritti sul canale quello privato va bene uguale anche io ho detto anche se c'erano 100 va bene uguale io non è che devo arrivare a farne a me non me ne frega basta se dice pochi ma boni ok perché non è che io devo fare i soldi a me non mi interessa perché un lavoro ce l'ho e il mio lavoro ce l'ho ho un bel lavoro guadagno bene sto bene sono un posto fantastico di meglio non posso avere di meglio non posso avere e manco lo voglio di meglio lo faccio perché mi piace perché mi piace comunicare però per tutto quello che offre è giusto pure che mi date un piccolo perché il sito costa quello costa insomma ci sono dei costi è giusto che magari e poi con questi costi non è che mi vio tutti i soldi poi li metto ecco li metto in gioco faccio contento qualcuno perciò molti l'hanno capito ma i soliti imbecilli non lo possono capire perché sono imbecilli come quelli che fanno insulti e dicono ste stronzate ok ciao ragazzi vedete la prossima e non ve incazzate cari youtuber colleghi